Previsto per domani il Consiglio dei Ministri che deciderà sull'uso della mascherina e che appare orientato a togliere gli ultimi vincoli, via libera dunque anche per teatri, cinema ed eventi sportivi al chiuso. La proroga riguarderebbe invece gli ospedali, le residenze sanitarie assistenziali ed i mezzi di trasporto pubblico che restano luoghi affollati e si intende procedere con prudenza. Molto probabilmente il CDM di domani darà il via libera anche ai ragazzi di poter sostenere gli esami di scuola media e maturità senza mascherina. Grazie